Se la crisi è un ciclone, la barca del tiportismo nautico non affonda. All'insegna di questo slogan, che intende sottolineare come nonostante la recessione, le difficoltà economiche, la nautica da di Porto si presenta al Big Blue con prospettive di medio e lungo periodo tutt'altro che sconfortanti, è stata presentata la pubblicazione Titoli professionali per la nautica da di Porto, a cura di Giuseppe Accardi. Ad introdurre la presentazione il capitano di fregata, avvocato Agnello Raiola, in rappresentanza del comandante generale delle Capitenerie di Porto, attraverso una rapida carrellata dell'evoluzione legislativa del sistema diportistico, dando così spunto all'autore di sottolineare la finalità della fatica letteraria, volta a dipanare la difficile massa di norme circolari esistenti, attraverso un chiaro quadro degli avvenimenti che hanno portato all'attuale stato di cose, causa spesso di difficoltà e confusione per operatori e diportisti.